Allora io dico subito che visto che si scaricheranno su questa sessione tutte le domande da stamattina fino a stasera vorrei essere molto cattivo per cui 20 minuti si davano prima, adesso non più di 4-5 minuti. A testa facciamo un giro veloce anche perché la mia intenzione era un pochettino un po' più di far capire perché prima parlavo con qualcuno che diceva sì noi abbiamo capito, abbiamo intuito ma vorremmo anche capire un po' meglio i meccanismi. Allora introduco i partecipanti alla tavola retonda, qui da sinistra c'è Marco Giorgetti, non Roberto Palazzetti come indicato che è consigliere di Assint e Lumbria, Massimo Bartoletti dell'Università di Cagliari, Stefano Bistarelli dell'Università di Perugia e direttore del nodo Uni Perugia del Cini Cyber Security National Lab, Rocco De Nicola dell'IMT School for Advanced Studies di Lucca, poi abbiamo Paolo Prinetto direttore del Cini Cyber Security National Lab e in fondo Leonardo Agnello dell'University of Southampton. Alcuni ne abbiamo già visti durante la giornata, ecco molto semplicemente io devo dire che è stato un viaggio per certi versi affascinante, in un mondo molto complesso, quello di questa giornata, in un mondo molto complesso, per certi versi oscuro, che rimane oscuro per quelli che masticano poco questi strumenti, ma un mondo decisamente affascinante di algoritmi, di codici, di formule che in qualche modo fanno un po' paura. Adesso volevamo con questa ultima sessione cercare di far capire un po' di più il se e il come, tutti questi meccanismi cambieranno la nostra vita. E il se, essendo stati qui tutto il giorno, immagino che siamo convinti che lo farà. Il come è ancora un po' più nebuloso. Allora, volevo partire subito, so che molti qui dentro non hanno dubbi, ma mettere subito in chiaro che bitcoin non è esattamente la blockchain. Noi siamo abituati a vedere su tutti i giornali, complici anche i miei colleghi, bitcoin come specchio per aprire questo mondo. Il che è stato per certi versi una fortuna perché l'ha fatto conoscere. Però per certi versi è un po' uno sbaglio su cui si cade, per cui vorrei chiedere a Stefano Bistarelli se proprio in due minuti ci dice qual è la differenza tra bitcoin e blockchain. Scusate, siamo tutti stanchi, mi sa. Sfrutto delle slide per cercare un po' di spiegare un po' di cose. e siccome abbiamo parlato tutto il giorno di blockchain, ma poco della valuta, provo a dire cosa è la valuta e per differenza tireremo fuori invece cos'è la cosa buona della blockchain, quella su cui speriamo che negli anni futuri la gente investa, le aziende prendano veramente profitto e inventano queste fantasmagoriche nuove invenzioni del 2018 e 2020. Spesso quando voglio provare a raccontare un po' come funziona il mondo bitcoin, faccio vedere questa slide qua e vi dico che ora vi posso raccontare cos'è bitcoin, però vi posso scegliere o vi racconto bitcoin reale, pillola rossa o il bitcoin un po' più semplificato, pillola blu e nella pillola rossa ci sono un sacco di cose belle, però un po' complicate come funzionano i sistemi di pagamento decentralizzati, cos'è il cap theorem, cos'è i problemi di attacchi bizantini tutta la roba dietro la crittografia, che magari qualcuno per qua sarà cosa facile ma non per tutti un sacco di cose, oppure come spesso si fa andiamo verso la pillola blu che magari ci dà qualche soddisfazione in più e andiamo semplicemente a dare una definizione del bitcoin come queste quattro caratteristiche, ovvero il bitcoin è un sistema peer to peer che permette di eseguire transazioni senza una terza parte fidata che permette a sua claim di fare pagamenti worldwide e con un basso tempo di processo alcune di queste cose sono state già descritte oggi, ovvero il processo in fees c'è stato anche l'intervento Banca d'Italia dove abbiamo visto che i fee in realtà cominciano ad essere anche importanti c'è tutta un'analisi dei fee, i pagamenti, bitcoin nasce come pagamento ma ricordiamoci che dietro c'è un'infrastruttura ed è per questo che stiamo affrontando questo compito il discorso peer to peer, transaction e non terze parti è essenzialmente la tecnologia che ci sta dietro ed è la motivazione per cui la blockchain è diciamo dirompente oggi come tecnologia salto tutte le cose fantasmagoriche che possiamo dire su Satoshi Nakamoto ringrazio anche le slide tra parenti da un collega mio che ha fatto queste cose bellissime ma il bitcoin si serve a rappresentare le transazioni quindi ci possiamo pagare ci possiamo fare delle cose bellissime rappresenta quindi un modo per effettuare transazioni peer to peer non c'è più Alice che vuol pagare Bob e quindi utilizza una banca come terza parte fidata ma che memorizza le proprie transazioni su un database super protetto, protetto contro il fuoco un super backup ma singolo ma in realtà quello che succede vengono fatte delle transazioni quindi peer to peer distribuite dove ognuno ha una copia del database e queste le grandi invenzioni ognuno ha una copia del database, ci ha guadagno a mantenere la copia perché viene remunerato per l'attività di mining e questo database distribuito ci garantisce che le transazioni e tutto quello che scriviamo che può essere un hash temporale, un timestamp come ha detto Deloitte oggi o qualunque altra cosa rimane inalterato nel tempo e non modificabile diciamo questo è l'ambiente, l'ecosistema bitcoin che lo lascio come sfondo che potrebbe essere altre motivazioni e altre future domande ma diciamo che il cos'è il bitcoin l'abbiamo detto e la tecnologia blockchain essenzialmente è quello che sta alla base ovvero peer to peer sistema distribuito, non modificabile, consenso e diciamo grande sicurezza col fatto che è impossibile modificare quello che è stato salvato perfetto grazie mille sintetizzando poi dal punto di vista applicativo possiamo dire che bitcoin ha cambiato la vita a pochi per il momento blockchain cambierà la vita probabilmente a tutti certo almeno promette di farlo ecco a Rocco Di Nicola volevo proprio capire nel senso che chiedere blockchain abbiamo detto è la tecnologia che ci sta dietro probabilmente dobbiamo parliamo spesso di pagamenti, il sistema di pagamenti in realtà è tutte le transazioni economiche e quindi laddove c'è una transazione blockchain può intervenire allora oggi abbiamo visto tante ricerche su applicazioni, potenziali applicazioni Deloitte ci ha fatto vedere anche delle applicazioni reali allora quali sono le potenzialità che questa tecnologia che regola in maniera peer to peer le transazioni senza bisogno di un'autorità di controllo quali sono le opportunità e dall'altra parte abbiamo visto tante promesse e probabilmente anche la finanza ci specula sopra quando punta su bitcoin perché va a vedere le promesse future perché fa così fatica a consegnare delle applicazioni, delle cose concrete grazie mille per la domanda secondo me il bitcoin diciamo ha avuto veramente il vantaggio di far capire che mettere in atto un consenso distribuito diciamo perché poi questo è cioè per me non è nemmeno blockchain la cosa che è stata messa in evidenza è stata distributed ledger, DLT che poi è il libro mastro distribuito e questo apre veramente non è più nemmeno una cosa solo economica è proprio di collaborazione in rete noi ci potremmo immaginare che semplicemente car sharing lo facciamo in questo modo qui diciamo ma questa può essere una delle applicazioni possiamo avere l'energia lo stavamo vedendo uno può distribuirsi energia anche senza far girare soldi necessariamente ma solo pagando oppure una cosa che per esempio su cui noi stiamo lavorando in questo momento Bitcloud in cui uno ha contratti e si scambia spazio disco anziché tempo di cpu tra comunità in modo tale da non dipendere da queste autorità da google o da qualcun altro quindi la vera rivoluzione proprio che poi era un po' l'intuizione anche dell'inventore di bitcoin quella di questa democratizzazione ecco secondo me può servire c'era un documento interessante del governo inglese di un anno e mezzo fa più o meno che diceva che il distributor ledger poteva rappresentare la nuova rivoluzione poteva essere altrettanto rivoluzionaria quanto internet diciamo e sarebbe stato il vero utilizzo di internet dopodiché lasciatemi dire si sta forza sul discorso blockchain si sta un po' esagerando anche a pomparlo diciamo no questo è il mio punto di vista alcune cose tipo che vedevamo oggi su access control oppure di twitter per blockchain o cose del genere cioè noi poi finché siamo noi accademici a farlo va benissimo farlo capito ma non dobbiamo cioè perché per curiosità capito è giusto che noi sperimentiamo poi per andare verso l'applicazione uno deve cominciare a vedere costi benefici uno deve cominciare poi mi fermo per lasciare spazio agli altri ma deve cominciare a fare il discorso quando mi costa non è più semplice se io per fare access control non mi scrivo un programmino mio se poi per dare l'accesso alla cartella clinica di un paziente mi dice vuole mezz'ora e invece io devo decidere lì per lì poi dopo se gli somministrano un farmaco o un altro vabbè che è sicurissimo però stiamo attenti anche a questa cosa qui quindi distribuire e leggere va benissimo e poi ci sono alternative a blockchain e veramente dobbiamo tenere sempre tutta la storia oppure alcune volte possiamo interromperla questa storia qui e tenere solo presente un time frame indispensabile per fare l'applicazione su questo secondo me bisogna cercare molto secondo me bisognerebbe lavorare dal punto di ricerca e su questo però anche sperimentando in pratica bisognerebbe cercare alternative cioè cercare di sono troppo pesanti queste cose qui cercare di trovare i meccanismi giusti di gestione del consenso distribuito in relazione all'applicazione che uno vuole fare quindi insomma non molte certezze più interrogativi che altre ecco cerchiamo è ovvio che la tecnologia promette guarda al futuro non consegna ancora molto però stamattina mi è colpito che il presidente di Concommercio abbia detto noi vogliamo capire un pochettino la scala degli investimenti qual è il chip che dobbiamo mettere per entrare in questo mondo allora Massimo Bartoletti che ci ha parlato di smart contract chiederei appunto se è possibile immaginare il percorso per un'azienda che vuole avvicinarsi a questo mondo allora è chiaro che dipende da cosa vuole fare da quali sono le sue esigenze non si può dire quale sia la scala di investimenti ma quale sia il percorso che può andare a fare in questo momento io ho giusto un minimo di esperienza su questo tipo di relazioni con le aziende perché la regione a Sardegna ha recentemente finanziato vari progetti di ricerca e sviluppo da condurre a braccetto tra imprese e università e questo secondo me è un ottimo modo per iniziare un percorso di transizione verso la tecnologia blockchain per un'azienda perché tipicamente l'azienda non ha l'expertise al suo interno per comprendere bene tutte le problematiche inerenti lo sviluppo di un'applicazione basata su smart contract all'università ha qualcosina in più tipicamente ne sappiamo anzi un altro problema che ho notato è che l'imprenditore ha una visione probabilmente che le è stata inculcata da questi santoni della blockchain quindi ha un'immaginazione enorme tipo si facciamo il DAO il digital enterprise l'autonomous enterprise si grandissime idee però in pratica se si vogliono fare le cose in modo sicuro le aziende non hanno ancora l'expertise perché l'università inizia ora a sfornare laureati che hanno questa expertise la tecnologia purtroppo è molto recente e quindi anche stargli dietro e sfruttarla per noi è un grande sforzo produciamo degli studenti in grado di iniziare a fare sviluppo di applicazioni e per le imprese sfruttare questo tipo di finanziamenti che ci dà per esempio la regione Sardegna è un ottimo modo per iniziare A questo punto a Marco Giorgetti che rappresenta Asintel per cui è più il lato aziendale vorrei chiedere quali sono le paure e l'approccio delle aziende rispetto a questo mondo e quali vede come ambiti interessanti nella giornata di oggi ne abbiamo visti veramente tanti dalla sanità alla notarizzazione potenzialità enormi com'è l'approccio da parte dell'azienda in questo campo? Allora, buonasera a tutti grazie della domanda io sicuramente dal punto di vista imprenditoriale prima della paura secondo me c'è una mancata consapevolezza di quelle che sono le opportunità quelle che dal lato tecnico sono incertezze a volte dal punto di vista imprenditoriale possono essere delle opportunità poi una delle paure è effettivamente il quanto quello che ha detto stamattina Mencaroni era giusto non sapendo quali sono le entità delle opportunità non si sa qual è l'entità degli investimenti cioè non si sa quanto investire e successivamente quello che probabilmente manca è il sapere il come fare ad investire cioè come scegliere quali sono i touch point tra il mondo accademico e il mondo dell'impresa per quanto riguarda le applicazioni e qui non ripeto quello che hanno già detto loro sicuramente il fatto di trovare delle applicazioni passa sempre dalla ricerca del ritorno economico per una impresa e è importante sapere cioè riuscire a trovare anche una come dire delle linee guida che permettano di far capire all'impresa questo passaggio questo dall'opportunità all'investimento questa è sicuramente per rispondere alla domanda la paura più grande poi nel corso della giornata sicuramente molti di quelle che perdonerete la semplificazione non erano formule ma erano applicazioni o impatti che la tecnologia ha su alcuni aspetti della vita anche delle persone quindi anche delle imprese sicuramente ecco la parte della sanità ma anche gli aspetti non legati ovviamente il primo che viene in mente è quello legato alla parte economico e finanziaria per il semplice fatto che si parla di criptovalute subito dopo però vengono anche molte applicazioni che sono interessanti secondo me per le imprese che possono essere quelle ad impatto sociale ad impatto sulla salute o anche sull'impatto produttivo al di là della logistica le applicazioni che possono venire in mente sono tantissime poi sono d'accordo con il professore che a volte per tutta una serie di fattori forse l'imprenditore ha un'idea troppo romantica di quello che si può fare con una tecnologia solo perché esiste cioè diciamo una complessità che va gestita e in questo come diciamo come Assintel è proprio quello che vorremmo fare cioè vorremmo cercare di trasferire parte di questa conoscenza dal mondo accademico al mondo delle imprese ecco su questo tema senz'altro del ruolo della ricerca dell'università magari ci torniamo ci torniamo dopo adesso volevo proseguire un po' sugli aspetti più concreti passando al lato sicurezza allora bitcoin abbiamo visto anche prima e la blockchain in generale ma spesso è appunto bitcoin come dicevamo prima è legato a un mondo che è torbido legato alla criminalità ai traffici illeciti agli hacker e quindi è un mondo che fa un po' paura allora a Paolo Prinetto volevo chiedere appunto quali sono gli aspetti effettivi di sicurezza di fragilità legati a bitcoin nella sua evoluzione rispetto a quanto era inizialmente perché adesso comunque la prossima volta facciamo una blockchain per il microfono così risolviamo però dicevo anche rispetto all'evoluzione che c'è stata rispetto ai primi anni di bitcoin dove adesso c'è una maggior si sta facendo strada un maggior controllo una maggior strutturazione del sistema allora intanto grazie alla domanda grazie dell'invito io ho un po' l'impressione che per alcuni versi stiamo e mi rivolgo in particolare anche al mondo industriale rischiamo di creare un gigante con i piedi d'argilla ma molto di argilla e vado nella sua direzione in modo provocatorio ma veramente provocatorio chiederei a chi sta pensando a livello aziendale di introdurre la blockchain e magari per alcuni nuovi servizi a che livello siete in ambito aziendale in termini di software di social engineering in termini di cultura a tutti i livelli sulla security ok quanti di vostri dipendenti usano un telefono a casa lo stesso telefono portatilo lo usano per far giocare il figlio o lo usano per collegarsi attraverso aziendale e cose di questo genere per cui il problema secondo me è più generale ok la blockchain in ogni caso appunto come lei diceva fatto passi avanti sono tecniche di sicurezza eccetera se ragiono in termini di sistema paese e oggi qui non ho sentito una riflessione di questo genere ma secondo me sa da fare a livello di paese in termini di sistema paese che problemi dobbiamo porci cioè come ci mettiamo come verso una DLT nazionale ad esempio cosa capita se stamattina ho venuto a parlare giustamente di generali bizantini di Nakamoto Byzantine eccetera ma cosa capita se improvvisamente alcune nazioni a caso molto grosse decidessero di occuparsi della DLT cioè di prendere il possesso ok essendo grosse e quindi bizantine con un numero di potenza di calcolo superiore a quello che serve tranquillamente prendere controllo dei legge dei libri mastri cambiarli eccetera secondo me un problema alcune riflessioni su questo genere come paese occorre farsene occorre a qualcuno se li ponga ecco perché non ho risposto ma ho aggiunto altri problemi lei appunto appena ha messo a punto il libro bianco della sagra sicurezza per cui c'è un capitolo appunto anche lì sulla dilettinazione non volutamente appunto abbiamo provato a ragionare su che quindi sì di gruppo c'è appunto una sezione anche legata all'aspetto nazionale perché secondo me non possiamo non porci quel tipo di problemi quindi è un problema culturale a tutti i livelli di tutte le aziende è un problema specifico e culturale ancora per molti versi di ricerca se parliamo di DLT distributivi leggere eccetera diventa un problema più largo dal mio punto di vista di formazione sensibilizzazione awareness se parliamo in generale di quello che sta dietro della base da cui partiamo per costruire queste cose e dove la mia impressione è che veramente siamo parecchio indietro ma ci sono delle sacche veramente pericolose in termini di mancanza di questi aspetti di sensibilità al problema della sicurezza ma mancanza pericolosi per la natura stessa dell'azienda cioè rischiamo veramente di trovare questa gente rischia veramente di trovarsi in braccia di telo fuori dal mercato completamente perché i suoi proprietà intellettuali sono state rubate senza che se ne accorgano sì probabilmente è un problema che riguarda tutto il mondo Wannacraia ha fatto capire che noi siamo forse più indietro degli altri ma anche gli altri paesi credo che non sto dicendo che siamo più indietro degli altri sto dicendo che comunque è un problema che occorre porsi d'accordo perché rischiamo veramente di sono n gli esempi di ditte che sono trovate completamente rovinate perché ci sono sottratte le proprietà intellettuali e cose di questo genere per cui è un problema che occorre porsi non credo che in Italia siamo allo zero anzi credo che il DPCM Gentiloni vada esattamente nella direzione di creare le condizioni per creare l'infrastruttura più agile più veloce eccetera credo che per tutti e anche come ricerca abbiamo il problema abbiamo il dovere di porsi di capire cosa possiamo fare per il paese in questo senso ecco parlando di WannaCry non so chi mi può rispondere però prima emergeva un interrogativo abbiamo visto prima che questi bellissimi schemi su sugli indirizzi che su cui sono andati i riscatti di WannaCry e ci si chiedeva io non sapevo dare una risposta se non è intuito adesso sono fermi lì ma come faranno quei soldi a uscire dal sistema perché se sono completamente tracciabili come fanno a uscire e siccome Bitcoin spesso viene utilizzato credo delle ipotesi sono varie un'ipotesi che utilizzano delle mixnet prima ipotesi quindi uso li lavo faccio un riciclo di denaro oppure utilizzo quelle che si nascondono dietro a delle lotterie quindi le investo in delle lotterie ufficialmente l'ho passata una lotteria poi per un qualche motivo ho vinto e questa è un'altra metodologia eppure oppure quello che in realtà uno magari non pensa mai uno dice ma questi sono pseudonimi mentre se vado sul mondo reale invece sono più tracciati non è detto perché se magari io li scambio in una banca con segreto bancario eccetera eccetera in realtà lì veramente li perdo lì li vedo sono pseudonimi vedo dove vanno magari non ho l'identità dell'indirizzo ma so più o meno dove stanno se io utilizzo un exchange server li cambio lo persi aggiungo solo c'è un esempio storico triste ma reale quello del miliardo di dollari più o meno sottratto un insieme di banche e questi sottratti banche classiche e sottratti passando dalle banche di livello A fino alle banche alle piccole banche di paesi sperduti con conti da cui poi vengono sottratti per cui purtroppo abbiamo esempi nel mondo reale qui almeno un po' è più tracciato ecco credo che poi bitcoin sottoline l'esigenza essendo un asset digitale di una regolamentazione che sia adeguata che sia veramente globale perché se ci sono dei bug evidentemente li può sfruttare chiunque per finire il primo giro Leonardo Agnello volevo chiedere lui ci ha fatto vedere questi settori dove già oggi la blockchain può garantire delle transazioni dall'energia ad altri dove può garantire delle transazioni bitcoin visto dal punto di vista della sicurezza che può garantire come può essere utilizzato in questa chiave diciamo più che bitcoin insomma l'infrastruttura blockchain in sé che da un punto di vista della sicurezza ci garantisce forti proprietà per quanto riguarda l'immutabilità del dato quindi il fatto che una volta che io abbia messo la mia informazione che potrebbe essere ad esempio una transazione fra due parti una volta che sarà messa e memorizzata nella blockchain diventa molto difficile riuscire a modificarla quello è una cosa l'altra cosa riguarda la high availability quindi il fatto di avere un'infrastruttura del tutto replicata e distribuita che quindi diventa molto più robusta ad attacchi di tipo denial of service perché per riuscire a diciamo mettere in ginocchio una blockchain che potrebbe diciamo annoverare decine centinaia o anche migliaia di nodi è necessario fare un attacco che riesca effettivamente a buttare giù tutti questi nodi quindi usare una blockchain di per sé consente di avere gratis questo tipo di di caratteristiche bene ecco finito il primo giro sono disponibile a eventuali dubbi interrogativi adesso ora mai più se potete venire la risposta appunto è che spesso si si accusa bitcoin di essere anonimo però ci sono delle monete assolutamente più anonime monero per cui i fondi da bitcoin si spostano su queste monete da dove poi escono con monete più anonime con monete più anonime perché a quanto mi risulta ma poi potrei sbagliarmi gli exchange in paesi diciamo regolamentati attualmente hanno l'obbligo nel momento della conversione e della registrazione di identificare quindi però no però se si va certo in paesi lui diceva si monero poi ci sono z cash non so fin dove arrivo ma perché mi fermo qua ma mi chiede che questo è solo una web dove vuoi exchange bitcoin per un'altra coin o qualcosa e ti dà un'address quindi lo sende e lo sende back to the others you give and you don't identify yourself certo quindi ci sono dei sistemi per avevo visto un'altra mano era un po' la continuazione di questo perché non si possono spendere se bitcoin ha la sua economia io magari potrei fare tanti micropagamenti poi è difficile andare a prendere io ho non so ho venduto un servizio sono stato pagato con questi soldi del ransomware è chiaro che ce l'ho io però non è che sono liable I'm saying it could be spent with microtransactions in a very large it's difficult than yeah but what do you do no but ok but then a result as someone who has been paid with ransom money for a service that I've sold so I'm not liable at that point sorry not for big amount no but automatically a smart contract could flood the network with micropayment for services the research the research the research the research that has presented the work he told me that he is convinced that many of these bitcoin will be there not be will be there because probably when they are so visibly they are more they are more they are more they are more to show that the NSA is colpible so so this this can be we have to control we have to control control the indiris if they are moss Buonasera. Ci sono altri interventi? A me è curiosa una cosa che era immersa nell'ambito di un paio di interventi perché poi appunto vogliamo anche un po' desantificare la blockchain e dire che non è tutto così semplice. Allora la domanda che si faceva prima qualcuno era ci sono dei sistemi che possono sostituire blockchain o blockchain è l'unica soluzione al momento, è l'unica tecnologia che può garantire questo? Com'è una cosa? Io ho fatto una domanda e gli ho dato una risposta? Dicevamo, no? Nel senso che la domanda l'avevo fatta io, quindi... Un grande della storia che ha detto questa cosa. No, no, nel senso che appunto algoritmi per il consenso distribuito sono stati inventati anche prima di internet. Il Byzantine Agreement di Leslie Lamport, no? E ora non so quanti, alcuni lo sanno, c'è il discorso che lì devi mettersi d'accordo che una certa cosa è vera, che un messaggio che ho mandato è proprio quello, no? E lì quello che ci sono uno deve capire come servono un certo numero di persone, non c'era blockchain, c'era solo un protocollo che uno doveva mandare il messaggio non soltanto a quello vicino a lui, no? L'idea era che ci sono questi generali che devono dire attacchiamo, no? Però ci sono dei generali che invece vogliono far vincere il nemico e dicono ritiriamoci. Allora, di quanti generali fedeli il re ha bisogno in modo tale da riuscire a garantire che tutti quelli fedeli ricevano l'ordine giusto, no? Quindi questo problema qui c'era e vabbè viene fuori che tre quinti più o meno bastano per fare una cosa di questo tipo. Quindi questi algoritmi ci sono, in alcuni casi forse questo basta, diciamo, secondo me blockchain ha fatto capire che ci possono essere tutte queste applicazioni. Quindi noi ora dobbiamo trovare il modo di vedere qual è il martello giusto per il chiodo che ci troviamo fra le mani. Non dire io ho questo martello, vado a vedere tutti i chiodi, no? Cioè bisogna trovare gli strumenti giusti. E il punto è che per davvero bisogna cominciare a pensare in termini di potenza computazionale, per esempio, che serve. Bisogna ragionare in termini di performance, cioè la domanda che i colleghi del Politecnico hanno fatto a Barucci, non so se Barucci è ancora qui, gli diceva che non è chiesto, ma sei sicuro poi che questo è lo strumento giusto? Per me è una cosa fondamentale. Quindi compito nostro proprio informatico, ora che risiamo anche su questa cosa al centro dell'attenzione, è proprio capire come facciamo a garantire consenso distribuito con cose anche più leggere di blockchain. Questo è quello che io penso in questo momento. Questa è veramente una sfida per noi, diciamo. Scusate, per noi e anche per l'azienda in qualche modo, secondo me, l'azienda ha cominciato a vedere il discorso delle applicazioni. Insieme dobbiamo cominciare a sfidarci, no? E vedere dove riusciamo ad andare. Quindi i problemi arrivano da loro e noi, chi con blockchain, chi con altri strumenti, diciamo, proviamo a fornire soluzioni e poi confrontiamo le performance, i costi e tutto e poi in questo modo poi andiamo nelle direzioni giuste, diciamo. E qui è importante, una cosa molto interessante di questo convegno è che questo è l'inizio di una comunità italiana che lavora su blockchain, diciamo, di cui appunto io poi non faccio nemmeno parte, quindi grazie a Stefano, diciamo, che ha contribuito a metterla in piedi. Poi c'è anche tutta la comunità italiana di sicurezza, invece intorno al Cini, al laboratorio Cini che Paolo coordina, perché poi alcune problematiche sono collegate, perché è vero, consenso distribuito, perché poi, come giustamente metteva in evidenza lui, blockchain garantisce anche sicurezza, no? Consenso distribuito garantisce sicurezza, probabilmente senza l'opportuna crittografia i generali bizantini vengono intercettati comunque anche dal nemico, no? E quindi lui poi dopo sa se il comando è attaccare o ritirarsi, a prescindere da tutto. Quindi il discorso lì è poi dopo combinare tutte queste cose in modo tale da ottenere cose simili a costi ragionevoli. Aggiungo una cosa, il discorso dei costi è in realtà una cosa molto importante, no? Perché tutti hanno visto, diciamo, forse anche uno dei motivi per cui ci abbiamo spettatori a questo convegno di oggi è che il bitcoin ha attirato l'attenzione anche della gente più o meno comune, non magari persone che lavoravano sul consenso distribuito, però il bitcoin si sono interessati. Il bitcoin ha fatto vedere questa cosa molto strana, diciamo, una crescita improvvisa e diciamo eccezionale del valore che ha portato anche dei guadagni intensi, grandi, anche da parte dei miners, che ha investito da un punto di vista finanziario sulla valuta. Ed è di qualche settimana fa le notizie che i cinesi, che tengono in piedi la maggior parte dei miners, dicono usciamo dal mercato dei miners di bitcoin. Ecco, molto importante sarebbe, sarà capire nei prossimi tempi quello che succede all'infrastruttura, perché attualmente l'infrastruttura tunese è in piedi, diciamo, non dico da cinesi, ma buona parte delle farm di mining sono in Cina per il discorso che l'energia elettrica costa poco e magari attualmente è conveniente perché il bitcoin vale così tanto. Ora, probabilmente questo valore così alto del bitcoin è una bolla speculativa, tuttavia quello che a noi serve dal punto di vista informatici e applicazioni legate a questa tecnologia è la distributa elettrica, che comunque qualcuno la deve tenere in piedi affinché tanti nodi ci garantiscono che non è possibile attaccarla e modificarla. Quindi la domanda è, resterà in piedi questa architettura o, come diceva qualcuno di l'identificio stamattina, forse l'idea è buona, ma comunque non potrà essere gestita in maniera così dal basso sociale, ma occorrerà un'entità e crearla privata, per missione, decontrollata. Quindi torniamo, non dico a centralizzarla, ma a una struttura decentralizzata, controllata. Cioè una blockchain per le blockchain, una super blockchain. Per esempio controllata o dalle banche o dalla nazione, che dia delle garanzie e che, per esempio, un qualcuno non se ne possa impossessare, che non viene fatto il mining per motivi di lucro sull'attività di mining e non per garantire un servizio che è quello del database distribuito, c'è tutte queste cose qua. Direi che forse le banche non sono i soggetti migliori per gestire, per garantire. Perché guadagnano, sì, forse sì. Visto che lo stesso bitcoin poi è nato in reazione alle crisi delle banche. Ecco, da questo punto di vista, devo dire, parlavi prima di Cina, dei miners cinesi, però si torna allo stesso problema. Cioè o c'è una regolamentazione internazionale, però mi risulta che i miners cinesi abbiano già spostato le attività verso l'Islanda. Oggi ho visto che uno dei grossi pool è cambiato proprietà, per cui è diventata di una società che non si sa bene da dove abbia sede. Quindi ecco, evidentemente se non c'è una regolamentazione internazionale, poi alla fine si... In realtà c'è da dire che il protocollo stesso, siccome nessuno l'ha detto oggi, ma la difficoltà del problema del calcolo dell'annonce e del calcolo dell'esce del blocco può essere variata a secondo della quantità di zeri che si richiedono nell'esce da calcolare. In realtà questo compensa un po' il fatto che si può dire che tutto funziona a costo più o meno alto perché ne vario la difficoltà e quindi il costo che deve investire nell'elettricità poi nel calcolo dell'esce. Quindi questo è una cosa molto buona, è vero che per alcune cose la bitcoin non scala, però da questo punto di vista scala, nel senso che blockchain scala, perché se la difficoltà, se il valore della ricompensa per i miner diminuisce o si abbassa, io posso investire meno soldi nella farm che fa mining e abbasso o diminuisco la difficoltà, quindi la quantità di energie elettriche che ci devo investire. Quindi il meccanismo dell'automotivazione alla certificazione. Notavo prima che per spiegare bitcoin, poi facciamo riferimento ai generali bizantini, al libro mastro che a me fa venire in mente un librone polveroso, quindi parliamo di digitalizzazione ma facciamo riferimento poi a questi... a loro certo, ma in realtà come si dice che c'è la pillola rossa e la pillola blu, nella pillola rossa c'è tutta questa cosa, diciamo, delle background in computer science, in criptografia, in finanza, che sono cose già conosciute e studiate, che però poi hanno una... nella pillola blu hanno una visione diversa che è appunto queste cose della blockchain, eccetera, eccetera. Bene, ci sono delle domande, curiosità, ora o mai più? Allora io, se non ci sono altre domande, farei così un ultimo giro, proprio vedendo quali possono essere le modalità, quello che si diceva prima, le modalità per mettere in connessione le persone con questo mondo. Allora io ho la sensazione che per certi versi la parabola sia simile a internet, internet l'abbiamo conosciuta perché a un certo punto qualcuno ha iniziato a capire che ci si guadagnava sopra, adesso molte di quelle aziende su cui ci si guadagnava non esistono neanche più, altre hanno resistito, sono cresciute, altre che non c'erano allora sono arrivate dopo. Adesso siamo in questa fase molto esplorativa, stiamo facendo ricerca, stiamo pensando delle applicazioni, nasceranno delle aziende, l'ansia di guadagnare sui profitti futuri si scarica sulle criptovalute, perché non c'è altro strumento. per evitare che l'unica interfaccia di questo mondo sia la quotazione di bitcoin. Come possiamo fare come ricercatori, come comunicatori, come aziende a cercare di far capire meglio questo mondo e di comunicarlo meglio? Secondo me investendo in cultura, il far crescere la consapevolezza da una parte e la sensibilità su problemi di questo genere, in generale e poi poco per volta sull'aspetto, nel momento in cui se ne ragionava ieri su un altro ambito, il discorso delle fake news, la risposta può essere non c'è un algoritmo per trovare le fake news, qui non c'è un algoritmo o una risposta alla sua domanda. Nel momento in cui secondo me cresce la sensibilità, la cultura su questi aspetti, il rischio, poi mi chiudo con una battuta, ma anche per indicare la mia età, il professore che a me ha fatto elettronica 1 il primo giorno disse i transistor sono troppo piccoli per avere un futuro e quindi non ve li spiego, hanno spiegato i pentodi e i tetroni, da allora ho imparato che... Non faccio previsioni. Sì, non è una domanda facile, diciamo, quella... Non è una domanda facile quella che... Potremmo fare domande, le risposte non le trovo. No, il punto è, chiaramente appunto, con internet la cosa è stata tutto sommato lenta, diciamo, se io penso appunto a quando poi dopo è venuto fuori web e cose del genere, internet esisteva da molto prima, diciamo, no, come cosa. Poi è diventato business, poi il business è diventato che lo faceva più chi regalava, per esempio, su internet, no, questo era a un certo punto, se pensiamo... E lì poi il valore vero in internet sembrano essere i dati in questo momento, la gente costruisce infrastrutture, no? E poi usa, solo usa i dati, si vende i nostri dati per... Qui, appunto, la cosa che non mi è chiara, no? Permissioned versus unpermissioned, no? Nel caso di blockchain. Ovviamente, secondo me, alla... Cioè, qualcuno mi diceva che... Diceva ieri sera che nel... I miner, che è una transazione, ora verrà a costare... Potrà costare fino a 5.000 dollari, questo sarà la cosa. E quindi si sposteranno solo grosse quantità di dati, diciamo, sulla blockchain, di soldi sulla blockchain. Ci saranno tante altre microattività che faranno, giocheranno lo stesso ruolo delle carte di credito, sono loro quelli che andranno a questa banca centrale a prendersi grosse quantità di dati e poi ce le daranno a noi, no? E lì poi ce le daranno, ci faranno pagare per questa cosa qui oppure terranno tracce delle attività che noi facciamo, di cosa ci compriamo, per esempio, per queste cose. Questi saranno altri modelli di business interessanti, diciamo. Quindi può darsi quelle permissioned e saranno così. E poi l'altra cosa, invece, secondo me, per lo sviluppo vero di tutta questa altra applicazione che stiamo pensando, secondo me è folle pensare di andare verso l'unpermissioned. Secondo me, se uno fa la blockchain dell'energia, deve essere permissioned soltanto se uno vuole fare il controllo degli accessi, no? Guardo sempre lui, ma non perché ce l'ho con lui, ma ha dato pure il passaggio stamattina, quindi figuriamoci. E allora lui, se si fa la blockchain, deve essere tra gli enti, in qualche modo, coinvolti e deve accollarsi il costo di questa cosa qui. Quindi quello che io vedo in futuro, vedo tante più permissioned blockchain e probabilmente, appunto, una grande banca centrale, diciamo, con tante piccole enterprise che stanno intorno e che faranno nuovi modelli di business. Perché poi, cioè, non è che uno riesce a immaginarsi, no? Poi qui, da un anno all'altro, diciamo, le cose cambiano, quindi lo slogan del 68, così chiude, dimostro anche io la mia età, era mancare di immaginazione, significa non immaginare ciò che manca, capito? No, quindi qui, va bene, quindi passo ai giovani ora. Ok, uso questo. Sì, nel senso che poi uno dei problemi anche della blockchain è quello per cui all'inizio, almeno uno o due anni fa, non si capiva di preciso dove poterla usare. Era una tecnologia nuova, innovativa, ma mancava la comprensione di come poterla usare in diversi scenari. Infatti, quello che sta succedendo adesso è che stanno nascendo molte start-up che cercano di usare la blockchain in ambiti molto diversi, essenzialmente ovunque ci sia la opportunità di poter in qualche modo dematerializzare una terza parte. E quello che si sta facendo da un punto di vista tecnologico è capire anche che la blockchain in sé non è la soluzione, ma è parte della soluzione. Quindi la blockchain va integrata con altre tecnologie, come ad esempio il fatto di avere una rete permissioned, o il fatto di usare ulteriori tecniche criptografiche, così da avere uno strumento che effettivamente possa dare dei vantaggi nei diversi scenari. Ogni scenario ha bisogno di pattern architetturali diversi. Uno dei modi per poter far conoscere meglio la blockchain è mostrare come in ogni specifico ambito questa possa diventare parte della soluzione. Stavo pensando alla possibile risposta alla domanda. E più si va avanti più è difficile. E più è difficile. Perché sono già state usate. No, a me mi sono venute in mente in realtà due cose, così rubo una delle risposte a quelli dopo, e sono queste qui. Allora, in realtà, intorno al 95-96, essenzialmente più negli anni successivi, quando si è diffuso il web, il web nessuno ci credeva e poi è diventata una cosa che è. Se non c'è il sito web non c'è nessuno. Un primo momento in cui si faceva business, mi ricordo da quel tempo lavoravo allo IT, allo IAT, in realtà si chiamava così, si faceva soldi semplicemente registrando domini. Dal tempo, quando c'erano lo boom dell'internet, domini, web, semplicemente si registravano domini e poi si rivendevano i domini. Attualmente blockchain è qualcosa di nuovo simile a questo, nel senso che uno si inventa una moneta nuova su Ethereum, oppure si inventa il progettino strano, fa una ICO e fa business. Però il vero business non sarà questo nei prossimi anni. Mi immagino che, come oramai non si guadagna più registrare siti web, come al momento del boom della Silicon Valley non bastava chiamare una ditta o un prodotto con E davanti per fare soldi. Ecco, questo sta succedendo adesso, magari adesso, per la blockchain, per le valute criptografiche. Mi invento una nuova valuta e guadagno. Mi invento un progetto che magari uno sta in piedi e guadagno. Ma tra un po', ma non tanto, magari tra otto mesi, un anno, in realtà tutte queste cose che hanno portato a guadagnare tanto moriranno e rimarrà tra tutto questa giungla di soluzioni quelle che effettivamente sono le applicazioni della blockchain. Non tutte quelle che ci sono adesso sono valide. Tante sono le idee, è giusto che ci siano, perché altrimenti la conoscenza non va avanti e la sperimentazione non va avanti, la fantasia, che è importante che ci sia, non viene utilizzata. Ma tra tutte le applicazioni di adesso è importante capire quella che sarà quella giusta. per missione o non per missione, forse entrambe, per utilizzi diversi, per social o per finanza. Adesso se uno parla applicazioni di adesso uno può pensare notarile, buona, chissà, tracciamento di supply chain, buona. Vedremo. Importante adesso giocarcele tutte, dal punto di vista accademico, sia teaching che ricerca, noi ci proviamo, ce le guardiamo tutte. L'azienda è quella che, diciamo, vorrebbe subito fare business. Io prima ho fatto una chiacchierata con un'altra testata giornalistica dell'ANSA e mi chiedeva ma allora Bitcoin ci guadagniamo o non ci guadagniamo? La domanda non è questa, secondo me, da cui rispondere. Se Bitcoin qualcuno ci guadagna qualcuno ci perde, ma la domanda a cui rispondere è veramente quella che hai fatto tu e che io ho fatto finta di rispondere che è quali sono le applicazioni che porteranno guadagno nelle prossime anni della blockchain e quindi la risposta è attualmente non si sa, però è giusto investire ricerca e anche ricerca applicata sia sulla permissione che sulla non permissione, secondo me. Allora, premetto che... Saremo clementi, poi gli ultimi saremo clementi. Ecco lui, soprattutto. Premetto che secondo me il discorso delle tecnologie blockchain non è un hype, come si potrebbe pensare vedendo la probabile bolla speculativa, c'è una cosa veramente nuova che è la possibilità di disintermediazione e resistenza a attacchi di tipo Sibill. Quindi, detto questo, io proporrei anche di inventarsi nuove metafore per descrivere il fenomeno, perché la metafora classica, oggi abbiamo sentito già un paio di volte, è quella come internet negli anni 90. Sì, è vero, ci credo, però non è solo quella la metafora giusta. Ne propongo un'altra di riserva che fa vedere il problema dall'altro lato. La metafora è quella dei tempi in cui non erano ancora noti i danni della radioattività e potevi andare a Luna Park negli Stati Uniti e c'era... anzi, era GX. E c'era il gioco in cui mettevi il piede, mettevi la moneta e vedevi il tuo piede, le ossa si muovevano, stavi lì un minuto, ah, guarda bello, poi, insomma, chiaramente poi si è scoperto che non faceva così bene. Oppure località termali che offrivano salutari fanghi radioattivi. Si pensava che facesse bene. La blockchain, da un certo punto di vista, può assomigliare a questo. Uno pensa di fare un software basato su blockchain con certe caratteristiche, pensa, sì, che sarà super sicuro, bellissimo, invece scopre che la complessità è così elevata e che alla fine fa una cosa che è ancora più insicura rispetto a prima perché c'è una percezione di sicurezza che non ha un riscontro concreto con le proprietà. Quindi condivido con Prinetto la necessità di fare cultura informatica a tutti i livelli e questo è molto importante perché c'è un po' la percezione dell'informatica come una cosa che se uno si mette in testo ha un'idea di fare un'applicazione solo questione di tempo e di impegno ce la fa. Non è così. Soprattutto il caso delle blockchain lo dimostra. Servono competenze di algoritmi strutture dati, di criptografia, di basi di dati, di teorie dei giochi, di un po' di finanza perché bisogna, come in genere accade nella sicurezza, prevedere tutti i possibili scenari di attacco e questa è la cosa difficile e la cosa bella. Intellettualmente è molto impegnativo quindi gli studenti devono rendersi noto che l'informatica è bella perché gli rende possibile sfruttare al massimo il proprio intelletto. Questo è un caso. Bene, io sono l'ultimo. Adesso ci arriva la vera soluzione. Forse, no, in realtà qui arrivano le vere richieste dal punto di vista di chi aziendale allora, la prima cosa da dire è che anche per rispondere all'intervento di prima è vero serve molta cultura sulla sicurezza informatica e anche sull'approccio informatico alla risoluzione dei problemi e ne serve tanto anche dentro le aziende quindi serve anche tanta cultura aziendale da fare per migliorare il background da cui poi si parte per eventuali applicazioni. Poi io volevo anche aggiungere una cosa che mi è venuta in mente sentendo parlare anche gli altri ovvero che quando si parla di aziende di business model e quindi di applicazioni che vengono magari dalla ricerca e poi vengono utilizzate all'interno del mondo imprenditoriale non si parla solo di start-up non esistono solo le start-up anzi quindi non è detto che il business model che può sfruttare l'opportunità che dà la tecnologia una tecnologia come la blockchain siano solo le start-up che creano altre blockchain o che creano altre criptovalute parecchia parte dell'industria e anche della parte diciamo del commercio e dei servizi in realtà non vanno solo a fare investimenti di tipo venture diciamo così ma anzi hanno bisogno di piattaforme per erogare i propri servizi o per far funzionare i propri processi produttivi e questo è un altro livello di applicazione che oggi non è stato nominato molto che però è altrettanto importante secondo me e io qui non do risposte alla domanda purtroppo ma in realtà faccio altre domande sul come poter diciamo avere anche questo questo punto di vista sulla tecnologia della blockchain in realtà in parte prima di me è stato risposto anche a questa mia richiesta ovvero che chiaramente ora ci sono magari idee molto romantiche mille opportunità poi fra un mese due mesi un anno non lo sappiamo ci sarà una scrematura o un consolidamento in una direzione o in un'altra insomma le sfide sono tante ovviamente e soprattutto la tecnologia corre talmente veloce che ci costringe sempre a trovare delle nuove risposte e a farci delle nuove domande quindi non possiamo stare fermi e questo l'abbiamo capito perfettamente niente io ringrazio tutti i partecipanti sia da questa parte del tavolo sia quelli che hanno avuto la pazienza di rimanere adesso lascio la parola a Bistarelli lui non lo dirà ma chi è riuscito ad arrivare fino adesso poi dopo uscendo gli verrà consegnato un bitcoin come prendi uno solo uno solo un piccone per minarlo grazie a Sol Davini che ha qual solito condotto la tavola rotonda in maniera egregia come sempre vi ringrazio per la presenza vorrei visto che è arrivato Palazzetti che si è portato anche un ospite se volete voi due salutare e ringraziare tutta la platea Roberto anche tu Roberto era in doppia presenza per questo non era qui ci aveva il sostituto grazie comunque della presenza vi ricordo che alla fine della sessione ci avremo un ultimo aperitivo per salutarci così magari vi portate a casa anche qualcosa di non so cosa ci c'è un vinello mi sa io faccio solo una battuta perché in concomitanza oggi Assintel che rappresento e rappresentiamo come aziende delle imprese SIT festeggiava i 30 anni dunque eravamo a un collegamento da Milano c'era Diego Piacentini e lì il giornalista ci ha chiesto insomma insieme all'assessore dice voi in Umbria che cosa state facendo dico guarda noi siamo real time contemporaneamente stiamo parlando di blockchain insieme a diciamo la ricerca e le imprese fondamentalmente ci chiedeva una battuta dice quale sarà la chiave e io ascoltandosi a oggi ma adesso la chiave è fare comunità cioè fondamentalmente è quello perché molto probabilmente tecnologie e risorse ci sono non c'è cultura e giustamente la cultura si crea con la condivisione e la comunità dunque credo che oggi sia stato un esempio uso fantastico perché proprio mi viene di dire di quello che significa fare comunità insomma è una grossa cosa anche per noi delle aziende che spesso non sappiamo farlo all'interno delle nostre imprese che questo è drammatico io lascio la parola a Antonio anche per fargli una battuta grazie grazie a Stefano che ha voluto l'evento insomma noi gli abbiamo dato supporto buonasera io sono Antonio Bartolini e sono assessore all'agenda digitale della regione dell'Umbria ero sopra mi è stato detto che appunto c'era questo importante evento tra l'altro che da quello ho capito il primo in Italia cioè è una da questo punto di vista è una start up del blockchain in Italia questo è molto interessante perché io la mia diciamo attività principale adesso sono prestato alla politica io sono professore universitario insegno diritto amministrativo a giurisprudenza quindi mi è anche molto interessato dal punto di vista proprio come studioso come ricercatore ho sentito solo la tavola rotonda sul tema della sicurezza e dell'approccio al tema di bitcoin e in generale di blockchain io sono è un anno un anno e mezzo che ho approfondito il tema di bitcoin e proprio da studioso della regolazione giuridica ho sempre pensato che oggi come oggi bitcoin e le criptovalute perché lo insegna la storia di come anche quella diciamo non digitale ma quella appunto materiale delle valute abbia bisogno alla fine di una regolazione una regolazione naturalmente che non possono fare le banche perché le banche perché le banche sono dei soggetti che naturalmente fanno parte del mercato occorre un'autorità indipendente e possibilmente un'autorità indipendente internazionale che dia una regolazione giuridica perché alla fine la storia lo insegna se non c'è regolazione il mercato non ha delle virtù taumaturgiche e quindi alla fine qualcuno ci rischia parecchi rischiano di perderci le penne però bisogna stare molto attenti bisogna stare molto attenti perché una iperregolazione è una regolazione un fenomeno che in realtà anche da quello che mi avete detto neanche chi lo studia chi fa ricerca lo ha ben compreso perché capito potrebbe tarpare le ali a un fenomeno che comunque ho osservato che è molto importante e che anche come hai detto te è stata una risposta alla crisi del mercato finanziario e anche lì con tutta la serie di problemi perché la crisi di Lehman eccetera eccetera è nata anche lì da una mancata regolazione da tutta una serie di algoritmi che in realtà a un certo punto abbiamo perso il controllo perché i derivati in realtà alla fine sono sempre stati un prodotto derivato 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 e abbiamo perso spacchettando il controllo allora cosa dico innanzitutto molto interessante e la regione Umbria naturalmente perché questa è un'attività che possiamo fare come politica è quella di incentivare anzi noi ci auguriamo momenti di discussione così perché anche io sono convinto che innanzitutto ci voglia un uno sviluppo culturale di un cambiamento che è solo all'inizio un cambiamento che appunto abbiamo difficoltà a capire e quindi oltre alla cultura informatica ci vuole ci vuole tutta la cultura tutta la cultura scientifica e accademica che si impegni nei propri settori io da giurista c'è l'economista perché appunto a un certo punto tu hai detto bisogna avere un po' di competenze appunto sicuramente sugli algoritmi informatiche finanziarie ma io dico appunto porto la mia base esperienzale anche bisognerà confrontarsi con le regole giuridiche quindi buon lavoro e queste discussioni ci aiutano ci aiutano ci aiutano naturalmente a capire e a comprendere fenomeni che in questo momento non comprendiamo nella loro complessità volevo chiudere con un'ultima battuta visto che ha parlato della crisi finanziaria così unendo le due cose recentemente abbiamo scoperto che le banche stanno mettendo i mutui su prime su blockchain abbiamo chiuso il centro